Il pareggio del Genoa, firmato Fares. Caicedo tocca di prima intenzione per Bianchi, il pareggio del Genoa, il gol di Flavio Bianchi. Efti, il pallone per dentro che va centralmente a servire Ekuban, prova a puntare Kandara, superato, Ekuban! Che gol! Melegoni apre per Cabiasso, palla di ritorno, Melegoni controlla, poi caccia con il dentro e la mette in rete. Adesso Cambiasso, Crostagliato, Mancino per destro! Mattia destro! Il Genoa accorcia le distanze! Mares può alimentare le azioni del Genoa, velo e poi palla, buona per destro! Il Genoa accorcia le distanze! Inbucata per Gudmundsson, davanti a Szczepny! Gudmundsson la riapre all'ottanta settesimo! E' uno a uno, Amarassi ha segnato Gudmundsson! Alla per destro! Destro! Ce l'ha sul piede! Destro, destro! Destro! Con il tocco morbido! Che giocata di Mattia! Destro arriva davanti al portiere e fa 3 a 2! Martella attraversa sul secondo palo, la paggia in rete! Cambiasso! Primo gol in serie a team per il giovane del Genoa! Destro, viene un po' confusa, e Kuban, linea di fondo, colpo di tacco di destro! E' il vantaggio del Genoa! 1 a 0! Al settimo minuto colpisce Mattia destro! Un gran gol, quello del numero 23! E' il vantaggio del Genoa!